Musica Mercoledì 30 novembre 2015, 16 scusate, bentornati a Good Morning Milano Sono le 9 e 31 minuti in questo istante e benvenuti a questa nuova puntata di Good Morning Milano Questa mattina parliamo di un fenomeno che è una cosa che prende passa e va Non è così, è qualcosa che c'è, è nata a Milano, continua da ormai più di sei anni E anzi adesso a breve avrà un debutto nazionale con un arrivo al cinema Partiamo dall'inizio, di cosa parliamo? Parliamo del terzo segreto di Satira Chiunque di voi che ci sta seguendo sicuramente lo conosce E io se andassi a vedere tutti quelli che hanno messo like a nostra pagina Io credo che tutti quanti avete messo prima di tutti un like Alla loro pagina Facebook Abbiamo qui uno degli autori, uno dei registi, è un collettivo Pietro Belfiore del terzo segreto di Satira Benvenuto e grazie a essere qui Grazie a te, buongiorno Dicevo uno dei perché, come dicevi, non c'è un regista o un autore, siete un collettivo Assolutamente sì, siamo un collettivo di cinque autori e registi Ci siamo conosciuti appunto otto anni fa alle scuole civiche di cinema di Milano Tre di noi sono di Milano, uno di Mantua, l'altro di Como Comunque, diciamo, gravitiamo intorno a Milano tutti da un sacco di tempo Sono quei discriminati quei due Sì, sono scuole discriminati perché arrivano da fuori Milano, esatto Ma sì, sono adeguati poi alla scuola milanese E siamo un collettivo, come ti dicevo prima, molto sovietico Perché abbiamo questa cosa di decidere tutto in cinque Quindi noi scriviamo le cose che facciamo in cinque, le giriamo in cinque, le montiamo in cinque E per fortuna siamo in cinque, quindi possiamo votare e andare a maggioranza E questa cosa ci salva dal... È il motivo per cui adesso probabilmente siamo ancora insieme Ci siamo divisi come una boy band Non ci sono le correnti Non ci sono le correnti, non ancora Quando arriverà il famoso video delle correnti del terrestre di Sati Capiremo che lì c'era successo qualcosa È l'inizio della fine Allora, partiamo dall'inizio Allora, più di tutto questo nome Questo nome che ormai è diventato veramente conosciuto da tutti Ma da cosa arriva, come nasce? Guarda, la nascita del nome in realtà Vorremmo avere un aneddoto sulla nascita del nome Ma in realtà non ha niente di spettacolare C'era una selezione di nomi che avevamo scritto su un bigliettino Eravamo a... mi ricordo perfettamente Eravamo a mangiare in una trattoria molto tipica di Milano Storica forse Che è l'Albero Fiorito Che sta in zona Piazza Lesusa E stavamo scegliendo il nome Perché all'inizio ovviamente il progetto era nato in maniera molto goliardica Nel senso erano noi cinque Eravamo usciti dalle scuole E ci stavamo barcaminando Ognuno in un lavoretto più o meno Anzi, diciamo meno Econicamente vantaggioso E stavano dicendo perché Non portiamo avanti questo progetto YouTube era in quel momento Era un canale di sfogo abbastanza utilizzato Da chi voleva provare a dire la sua Col mezzo del video E c'erano vari nomi Tutti molto brutti Devo dire la verità Poveri di sodio Era uno di questi Animali con l'A Era un altro E alla fine Tra i vari Probabilmente anche proprio per Per l'eliminazione Quindi non è che l'avete estratto Gli avete proprio levati No, li hanno levati Esatto Ed è rimasto il terzo segreto di Satira Che vuole essere un gioco di parole Ma che poi in realtà Non ci è mai tornato utile Perché non c'era nessun segreto Il terzo Non si capisce perché Perché noi siamo in cinque Satira è l'unica cosa Che forse si spiegava Perché comunque Fin all'inizio L'idea era quella di provare A raccontare il nostro punto di vista In maniera Ironica ovviamente Sulla politica Sulla società In generale Con la Satira Che è uno strumento Che ci è sempre piaciuto A tutti e cinque Che ci raccomuna Tutti quanti Il primissimo video Che avete fatto Che noi magari Neanche conosciamo Non dico il primo Che vi ha portato A successo Ma il primo Che avete fatto Qual è stato? Il primo Tendiamo a non ricordarlo mai Perché è veramente orribile Era una rivisitazione Di una canzone rap Di Fabri Fribra Sul Bunga Bunga Di Berlusconi Siamo partiti subito A altri livelli Quindi tendiamo a non ricordarlo Quindi facciamo finta Che non abbia detto nulla In realtà abbiamo fatto Una serie di video Più o meno A inizio solo video di montaggio Ovviamente Perché ancora L'idea era quella Di provare a fare tutto Senza L'apporto Insomma di attori Poi ci siamo accorti Che Che poteva essere utile Invece Mandare in video qualcuno Ci siamo guardati in faccia Abbiamo capito che noi cinque Eravamo dei cani A recitare E abbiamo detto Forse è il caso Di chiamare qualcuno E abbiamo cominciato A collaborare così Con una serie di attori La maggior parte Dei quali milanesi O comunque Che hanno fatto La Paolo Grassi A Milano Che poi Questo gruppo Che non si è allargato Adesso Davvero Siamo tantissimi Cioè loro fanno parte In qualche modo A livello sicuramente Morale Del gruppo Ecco Ecco Poi a un certo punto Arriva Tutto colpa di Pisapia E poi arriva Il favoloso mondo Di Pisapia Che è stato il video Fondamentalmente Che a livello Di visibilità Di numeri È stato il video Che ha consacrato Se non altro Il progetto Più che il nostro Lavoro Ed è un video Che abbiamo fatto Appunto nel 2001 All'epoca Della votazione Del ballottaggio Tra Moratti E Pisapia E c'era questo video In cui ci siamo immaginati Cosa sarebbe Visto Tutto quello Dicevano Moratti Su quello che sarebbe Successo Se avesse vinto Pisapia Ci siamo immaginati Un mondo Così come se sarebbe Immaginato un elettore Della Moratti Una volta Avesse vinto Pisapia Quindi al posto Del bancomat Per ritirare C'era la tesserarci O moschè ovunque Eccetera Eccetera Insomma Anche lì Vi siete fatti conoscere Dal popolo del web Come viene definita Questa parolaccia E non solo Proprio Pian pianino Siete usciti Da questo Da questo strumento O meglio Forse siete sempre rimasti dentro Ma comunque Vi hanno cominciato a Chiamare anche Fuori dal web Con tantissimi altri video Adesso Non so Il video qui Sei più affezionato Ma È giusto Chiamare i video Gli avete dato un nome Preciso Non sono sketch No direi che video Anche perché hanno Diverse forme A volte ha la più Formale Cortometraggio classico Come quello A cui sono più affezionato Che Lo è un po' per tutti Ma perché il video È un po' più lungo Quello più strutturato Che è il Dalemiano Ah Dalemiano Pensavo a Natale Beh Ovviamente poi Ognuno ha Le sue Poi essendo il 5 Diciamo che Devo parlare anche A nome personale Perché poi si scatenano Per dire degli altri Se dico il nostro video preferito Quindi Il Dalemiano È quello che dura Di più Che dura 10 minuti È strutturato È un dialogo Di 6 persone All'interno Di una stanza È quasi la forma Di una piesta teatrale Più che di un video Quindi E quindi Sì Sono assolutamente video Ecco Mettiamola così Però Ce ne sono tanti C'è Natale col PD Natale con l'Isis Il video che mi ha fatto Sulle primarie Le prime Quelle tra Renzi Bersani E Vendola E le seconde Ancora più clamorose Con Cuperlo Ma come Cuperlo È una frase Che tanti si chiedono Io credo che Ma come Cuperlo Si è veramente Ormai è entrato Nel gergo comune A Milano soprattutto Quando uno ti dice qualcosa Tu gli rispondi Ma come Cuperlo Cioè effettivamente È un Insomma Siete riusciti a fare Davvero davvero tanto In pochissimi anni Oltretutto anche A inventare Veramente O meglio Non so se inventare Comunque a fare anche Italia Scout Forse questo non ve lo aspettavate neanche A scoprire dei volti Che adesso sono Famosi Riconosciuti E che anzi Forse adesso li tirano anche Per uscire un po' Dal loro personaggio Che li ingabbia Che li ingabbia Infatti devo dire Che quella Tra le tante Le tante soddisfazioni Devo dire che in questi anni Abbiamo avuto Questa è forse Una delle più Più grosse Nel senso Perché A parte perché Ovviamente sono diventati amici E quindi è un valore Aggiunto anche quello Dall'altra Proprio perché Secondo me sono attori Tutti quelli che abbiamo coinvolto Veramente Veramente molto bravi E La maggior parte di loro Gravitava in una nicchia Molto ristretta Teatrale Di teatro sperimentale Alcuni Di teatro E avevano avuto Poca possibilità A volte per non interesse loro A volte proprio per sfortuna A volte perché Non erano in grado di Uscire Da quel mondo lì E invece sono attori Che dovrebbero Dovrebbero invece Lavorare molto di più Di quanto fanno Parlo di Massimo Anno Loizzi Di Marco Ripoll Di Walter Lonardi Ma anche di Alberto Astorri Che è un attore Che ha quasi 50 anni E fa teatro sperimentale Da 30 A Milano Nel circuito È abbastanza conosciuto Ma fuori da questo circuito No Ed è un peccato Perché è un attore Straordinario Ma ce ne sono tanti Vi dovrei citarli tutti Ovviamente Non sono veramente tanti Ormai sono veramente tanti Avete trovato un gruppo Sì davvero Più o meno Quanti saranno Numericamente Collaboratori fissi Con cui collaboriamo Quasi sempre Sono almeno una decina Ma in totale Saranno almeno il doppio Cavolo La domanda che mi viene più Faccio dire Com'è che vi è venuta Questa idea però Cioè Vi siete svegliati Ci mettiamo a fare i video Su internet E poi diventiamo famosi Ma allora Noi abbiamo Ci siamo conosciuti appunto Come ho detto prima Alle scuole civiche Di cinema di Milano E ci siamo accorti subito Che una cosa Che ci legava Particolarmente tutti All'area del cazzeggio Perché C'era anche questa Componente Si cazzeggia tanto E' vero questa cosa Che si cazzeggia tanto Noi cinque Nel uno specifico A scuola sì Poi abbiamo anche studiato Ovviamente Tutto quello che è giusto fare Non dirò Ovviamente Bisogna studiare Non dirò mai Che è giusto cazzeggiare Però Noi l'abbiamo fatto E a un certo punto In questo cazzeggio Ci siamo resi contro Tra noi cinque Soprattutto Che avevamo alcuni Punti in comune Perché poi Per mille Per mille Per esempio sul cinema La pensiamo tutti Molto diversamente Con questo Il ciotrafico Però Di sicuro Tutte e cinque Avevamo un po' Questa Questa passione Per un certo tipo Di comicità Un po' inglese Un po' british Un po' da stand up comedian Un po' In Italia Sicuramente Quella La scuola Di Luttazzi Guzzanti Tutta la scuola Insomma Siamo cresciuti tutti Con i programmi Della Dandini Prima ancora Dell'ottavo nana Con Pippo Caridi Show Ok Quindi insomma Davanzi Davanzi Esatto Da tutti i ragazzi Davanzi Noi siamo anche molto giovani Siamo tutti compresi Tra l'89 E l'81 Il più anzianotto Di noi Non provare a dirlo Perché sono un chiodicone l'anno Quindi Ah In termini ironici Siamo dei adolescenti Siamo tutti adolescenti Quindi avete avuto questa idea Avete capito che si poteva C'era uno spazio C'era uno spazio Che era inter Effettivamente Come dire Siamo proprio Arrivati in un momento Favorevole Ci siamo guardati in faccia E abbiamo detto Effettivamente Inter ti ha la possibilità Di fare cosa Di Dire la tua Farlo in maniera molto libera Autoproducendoti Ovviamente Cosa che abbiamo fatto Peraltro E ancora facciamo In alcuni casi E provare a buttarti Nel grande calderone Di internet Che a suo modo È iperdemocratico Nelle sue due eccezioni Peraltro Quella positiva Di Che se C'è qualcosa di buono Effettivamente Emerge Dal marasma L'altro ovviamente Che ha a che fare Con un mondo Che Dove Dove trovi delle cose Che hanno visualizzazioni Esponenziali E non ti spieghi Il proprio Il perché Famosi gattini Famosi gattini Ma video assurdi Tipo Vecchi che si picchiano Che ha 4.000 milioni Di visualizzazioni Dici vabbè Non potrò mai competere Con i vecchi che si picchiano Però decidi di fare Un contenuto particolare Che peraltro È difficile fare In questo Cioè in questo momento Ecco Appunto particolare Mi viene da dire Nel senso che Voi non avete fatto Il classico La classica Diciamo Satira da youtube Per cui Faccio ridere Veramente con Passiamo in termini Un rutto E una scureggia Cioè adesso Passiamo in termini Cioè avete fatto Veramente qualcosa In base invece di Più alto Cioè c'è anche bisogno Di una certa preparazione Per vedere alcuni I vostri video Secondo me Nel senso che Non è proprio per tutti No diciamo che Sicuramente Devi seguire un po' La politica Devi seguire un po' L'attualità Perché sennò Ti perdi Soprattutto Un punto di vista Sulla satira Ma non solo Politica Ma anche Sociale Quindi abbiamo Affrontato anche Temi un pochino Meno Pesanti Dell'attualità Stretta A livello politico Però di farlo Cercando di Usare Il mezzo Dell'ironia Prima di tutto Ma cercando anche Di Creare Degli stereotipi Umani Che poi Fossero vicini In realtà A Proprio All'umanità Di alcune persone Che possono Gravitare intorno Anche senza Far parte La politica Anche perché La politica Non interessa Come Votanti Quindi come dovrebbe Interessare chiunque Nessuno di noi Ha mai fatto politica Ne interessa farlo Nel senso che Non è un mondo Che ci appartiene Minimamente Però Il commento Alla politica È una cosa Che anche Mentre avevamo a scuola Facevamo spesso Quindi Ci capitava ovviamente Di commentare Un esito politico O meno E farlo In maniera ironica C'è da dire Che noi abbiamo Cominciato a fare Questo lavoro Quando c'era Berlusconi Quindi Era semplice Era quasi come Era Era folle Dopo che adesso Però non sembra Che ci sono Meno spunti Infatti C'è stata una pausa C'è stato un momento Con Monti In cui ci siamo guardati E mi ha detto Oddio Cosa succederà mai Non riusci E poi per fortuna È arrivato Renzi E ci ha risolto Praticamente Con qualsiasi tipo Di problema L'idea che avete avuto All'inizio Sì È poi cambiata Nel tempo Oppure già avevate idea Che sareste arrivati Dove siete arrivati Adesso E poi fra un po' Affrontiamo il punto finale Che è L'arrivo al cinema Se fra poco Andrete al cinema Allora diciamo che Avendo fatto la scuola Di cinema Come obiettivo Nella vita Ma senza pensare Di raggiungerlo Avevamo quello Di realizzare Poi un lungometraggio Lì per lì È nato tutto come un gioco Nel senso che tutti noi Avevamo il proprio lavoro Nessuno pensava Di far diventare Quel lobby Un lavoro E piano piano In realtà Invece Che proprio grazie Alla visibilità Di internet Abbiamo cominciato A lavorare Con la nostra scrittura Con il nostro modo Di fare video A volte In televisione Arrivando in televisione Con i prodotti Cioè con i video Il trascolto di Satira Quindi alcune collaborazioni Con il report Per l'appunto Con Piazza Pulita Sì perché ad un certo punto Siete usciti dall'web Siete andati nella televisione Che vi ha accolto a braccia aperte Perché ovviamente Avete fatto A rete unificate Anzi mi vorrebbe da dire Perché avete fatto Forse tutte No Mi manca Mediaset Ovviamente Per ovvi motivi Però Amici di Mediaset Se serve Noi ci siamo E il problema No E diciamo che Il passato televisivo È stato un passato Meno brusco Di quanto ci si aspettava Perché in realtà Carta bianca su tutto Non ci siamo messi Alcun tipo di censura Anzi Ci siamo chiesti Di fare quello Che facevamo su internet Di provare a riproporre Un contenitore televisivo Che non è semplice Da mille punti di vista Però è stato un esperimento Per noi A parte che è bellissimo Ma molto molto Istruttivo Avete fatte un po' Di edizioni Sì avevo due edizioni Di Piazza Pulita Con Formigli Tre puntate Con la Gabanelli A Report Alcune collaborazioni Con la Sette Con alcuni programmi Tre anni fa Con Inonda Su Sky Con gli Sgommati Qualche Qualche collaborazione Random così Però Tutte molto legate Ai temi Che erano già più vicini Quindi è stato un mondo Comunque vi ha accolto bene Mi dice Sì Sì assolutamente Adesso invece siete arrivati Al vostro grande sogno Cioè ce l'avete fatta Si dice no? Pare sì Adesso poi ovviamente Si fa tutti gli sconduri Il film è finito Ufficialmente Le riprese del film Sono ufficialmente finite Adesso si passa al montaggio Quindi saranno ancora mesi Duri di lavoro Esatto Allora Cosa ci puoi dire Sul film? Il titolo si può dire sì Il titolo si può dire Ed è Si muore tutti i democristiani Ok già qui Insomma Un bel capitolo Non esistono più i democristiani Ma infatti Come l'avevamo intesa noi Ovviamente Il democristiano di cui parliamo è Cioè noi abbiamo questa idea Sul fatto che A un certo punto della vita Un po' per età anagrafica Un po' per scelte Un po' per passaggi di vita Si tende tutti ad accentrarsi Verso un centro Che non è solo l'Udc di Casini Ma è proprio un centro virtuale E poco virtuoso Un centro mentale Un centro mentale Esatto In cui alcune scelte Che a vent'anni Si facevano con molta più facilità A trenta Come si cominciano a vedere Come estreme A quaranta Non si fanno più Ah ecco Ok E quindi Ci piaceva Raccontare questa cosa Perché è successo ovviamente Anche noi siamo i primi A subire questa Devo che sta iniziando Mi state diventando Demo cristiani Ci stiamo inborghesendo Lentamente inborghesendo E quindi volevamo Provare a raccontare Questa storia Che è una storia Che avevamo in mente Da due o tre anni Abbiamo scritto un soggetto Abbiamo trovato Dopo tanto di rovagare Un produttore Che ha deciso di Buttarsi in questa follia Che tipo di film Ci dobbiamo aspettare Allora Un film Alla Boldi dei Sica Un film Alla Non so I vecchi film di Pozzetto Oppure Oppure qualcosa di nuovo Non so Ma allora Un checco zalone Come siamo Ma forse è la cosa Più distante Da tutte queste cose Che hai detto Cioè Nelle intenzioni Vorrebbe essere Nel senso che È sicuramente La commedia Ovviamente Non è un film drammatico Però vorrebbe provare A essere Il tentativo È quello di fare un film Che abbia una sua Autonomia Anche se Anche per chi non conosce Il progetto Ovviamente Gli attori coinvolti Gli attrici coinvolti Sono gli attori e le attrici Che lavorano con noi Più qualche caso sparuto Di volto Un pochino più noto E Il tentativo Era quello di fare un film Diciamo che Un riferimento altissimo Se mai dovesse averne uno Paradossalmente E questo ti fa capire Quanto siamo vecchi Veramente C'eramo tant'amati Ah Vabbè Una cosa Non c'entra niente Vabbè Invece È quel mondo lì Quello è un film Che rivedendolo Aveva un sacco di tratti In comuni Con la storia Che vogliamo raccontare Insomma A livello proprio di Quindi mi dici Quindi non sarà appunto Il solito Film comico Fatto a sketch Poi chiuso uno sketch E un altro Cioè non è La prima scelta Che abbiamo fatto Quando abbiamo Quando ci hanno chiesto Di scrivere la sceneggiatura È stata proprio quella Di provare a fare un film Che avesse una sua autonomia Su 90 minuti E vi è stata accettata Come dire al fin da subito È stata difficile Da far digerire È stata ovviamente difficile Perché Se pensi a una commedia Pensi appunto Subito a un film Penso Ma a casi anche virtuosi I soliti idioti Ne hanno fatto una fortuna Con gli sketch Però è fatto a sketch Infatti Noi vogliamo provare A fare una cosa diversa Comunque Anche se fai un film Di un'ora e mezza È fatto sempre Però secondo me Ado Gianni e Giacomo È un buon esempio invece Secondo me è di una cosa Perfettamente riuscita Perché È vero che ci sono Se tu vedi Spettacoli teatrali Ado Gianni e Giacomo Dite chi è il telun Riconosci poi Gli stessi sketch Però sono Perfettamente integrati All'interno del film Allora ti chiedo invece Su un vostro Forse è simile Secondo me Zoro Gazebo Lui ha fatto un film L'ha fatto a Roma Molto romano Come film Lui molto romano Come personaggio Però c'è qualche Rassonanza Oppure Ma Secondo me Il fatto appunto Che sia molto romano Un po' purtroppo Ci Però Zoro Assolutamente Anche il programma Secondo me Il programma di Zoro Gazebo È È un esempio Molto Avrebbe dovuto avere Molto più successo Di quanto ha avuto Secondo me Perché è fatto con Veramente Con due lire E C'è molta Molta creatività E c'è un Lavoro autorale Secondo me Dietro enorme Quindi Non lo so Il film Io purtroppo Devo dire la verità Non l'ho visto Però non ho solito parlare Mi spiace che non sia andato bene Più che altro per Zoro Quello Però forse è un problema Di distribuzione Italiana Il problema di fare Una cosa un po' diversa Che la gente ancora non è Un po' Come diciamo noi Un po' di nicchia Un po' di nicchia Sì La nicchia È molto bella La nicchia È confortante La coperta calda La nicchia Comoda piccola e calda Però insomma Rimane poi lì È difficile Uscirci Dopo il cinema Cosa ci sarà A questo punto? Dopo il cinema C'è Dei vostri sogni C'è la battuta di Boris Che dice che dopo il cinema C'è la tv Dopo la tv la radio E poi la morte Diceva Boris La serie Speriamo non vada così Bevi da qua qualche step Però dai Dopo il cinema Avresti una televisione Poi avresti radio Che sarebbe Che sarebbe molto interessante Che sarebbe molto interessante Ad esempio No Al prezzo Sarebbe un mondo Interessantissimo A molti di noi Ho un'idea magari Di un giorno Di fare proprio Una vostra trasmissione In tv Allora Quello sarebbe Sono per tutti noi Cinque Nel senso che Poi uno si deve pensare Al momento in cui Dice Mettiamo che No? E uno dice Mettiamo che Il film venga bene Perché anche qua Adesso noi Siamo molto contenti Di come abbiamo fatto le riprese Però dovremo montarlo Il montaggio Il montaggio sarà fondamentale Per capire se è venuta Una cosa decente Smetti che Il film va bene L'idea è ovviamente Quella di provare a continuare Quindi C'è la serie tv Chi lo sa La radio Il programma Il programma è un'idea bellissima Nel senso che Secondo me Come dicevo prima Dai tempi Dell'Andini A parte i programmi Di Zeli Colorado Insomma Che però È una cosa diversa È una cosa diversa Sarebbe Sarebbe bellissimo E rivoluzionario Cioè un avanzi Non c'è più Dall'epoca di avanzi Provare a fare un avanzi Con intermezzi musicali Con Con la possibilità Di avere un conduttore Ma che non sia Il classico conduttore Di 90 Che è solo collegamento Con lo studio È una roba difficilissima Ma che ci piacerebbe Anche perché Come dicevi tu La famosa scuderia Di cui parlavi prima Ci sono attori Ma ci sono anche cabarettisti Che abbiamo conosciuto C'è questo C'è questo gruppo Che si chiama Democomica a Milano Che ha gravitato Intorno al circolo Simonetta Che è un arci Che c'è vicino a Porta Genova Che conosciamo perfettamente E sono un altro gruppo Di bravissimi Autori Cabarettisti Comici Che sarebbe giusto Portare Alla ribalta E così come Musicisti Davvero c'è Un fermento Culturale Sopito Comunque Non abbastanza Sviluppato Che sarebbe bello Riportare un po' In auge Torniamo Al film Vediamo se Lasciamo A tirati fare qualcosa Ancora Se si può dire ancora È un film quindi Generazionale Che parla di generazioni Che si incontrano C'è qualche attore nuovo Che avete scoperto Proprio per il film Che abbiamo scoperto Scoperto no Nel senso che Quelli che abbiamo coinvolto Che non facevano parte Del gruppo storico Sono attori che comunque Avevamo avuto modo Di lavorarci già insieme Parlo di Alessandro Betti Per esempio Che aveva già fatto con noi Il video di Natale Con l'Isis Che Alessandro Betti È il terzo Di Ale France Quando facevano buona La prima Ok Ma sono gli attori Che abbiamo coinvolto Sono tutti attori Su cui avevamo piena fiducia Attori invece nuovi Che non conoscevamo proprio Si sono rivelati Straordinari A livello di disponibilità Ecco Diciamo che La grande lezione Che abbiamo imparato Dopo questo film È stato che Anche chi non conosceva Il progetto Si è trovato A condividere La scelta del film E l'idea del film Piano piano Ed è un film Tu dicevi Mi hai chiesto prima All'inizio Se è un film Generazionale A suo modo lo è Mi dicevi appunto Che c'è questa rivoluzione Di tutti noi Dai 20 ai 30 Poi ai 40 anni Per poi morire Democristiana Per poi purtroppo Morire È un po' come l'evoluzione Quindi cinema Ti muovete E poi si muove Esatto È un film Generazionale Perché è un film Sul compromesso Ok Compromesso puntuale Mi darei la parola giusta Perché mi viene da dire Puntalò Voi siete un collettivo Quindi avete dato un compromesso Per dire Chi è il regista Tutti quanti Nei vostri video Non c'è mai un protagonista Del proprio Nel senso Ogni video ha il suo protagonista E poi è proprio un film C'è un protagonista Noi siamo stati paracuri Da questo punto di vista Abbiamo scelti tre Chi sono i tre Protagonisti per sapere? I protagonisti sono Massimiliano Noizzi Marco Ripoldi E Walter Leonardi Non avete fatto tolta Nessuno dei tre E ovviamente ci sono Tutti gli altri Però dovevamo Effettivamente Purtroppo Scegliere Poi abbiamo Poi nei titoli di coda Che ci Risolveremo i problemi Di Chi E lì come fai Non lo voglio Tre schermi Tre schermi Con tre titoli di coda Oppure nessuno Potete scrivere I soliti Andatevegli a vedere Negli altri video Cosa vi fate prima I soliti Pietro Siamo arrivati Alla fine Io davvero Ti ringrazio tantissimo Sono le 9 e 55 minuti Siamo qui sempre in diretta Dagli studio di Milano News E davvero Ti ringrazio Di averci raccontato Quello che potevi appunto Del vostro film Ma soprattutto di aver Conosciuto questo grande fenomeno Che è il terzo Segreto di Saturday Siamo ben contenti Orgogliosi anche Di essere un fenomeno milanese Una grande eccellenza milanese Come si dice in quei grandi casi Quando prendono anche la targhetta E la medaglietta Mi spiace Non abbiamo niente da darti Ti facciamo solo i nostri Tanti complimenti Quello sì Allora Basta l'avanza Un buon lavoro Per il montaggio Che immagino Sarà davvero Difficile Faticoso Ma sicuramente Darà grandi soddisfazioni E in questo momento Ci vediamo Quando uscirà il film Che non si sa ancora quando No assolutamente Non abbiamo niente idea Uscirà Sì Uscirà Uscirà Grazie Io vi ringrazio Vi ringrazio tantissimo Di averci seguito Oggi Tutta la mattinata In diretta E soprattutto Voglio usare Questi 5 secondi Prima di chiudere Per ringraziarvi Per ieri sera Ieri sera Ci avete seguito In tantissimi Abbiamo avuto Momenti Veramente Di grandissimi ascolti Che neanche noi Ci aspettavamo Non possiamo dirlo Devo dire che forse Allora finalmente Siamo riusciti A darvi un servizio Interessante Ringrazio ancora Le tra università pubbliche Di Milano Che ieri sera Sono venuti qui A confrontarsi Sul Referendum E ringrazio davvero Tutti voi Che avete seguito La diretta ieri sera La diretta questa mattina Questa di Good Morning Milano Vi do appuntamento Oggi pomeriggio Alle 17.30 Con i telegiornali di Milano News E io personalmente A domani Con una nuova puntata Di Good Morning Milano A presto Grazie mille Buona giornata Grazie a tutti